buongiorno come state come non state quindi allora questo è un video che volevo fare da un po di tempo però siccome solo ieri ho scoperto diciamo ho preso coscienza no di aver scoperto questa cosa meravigliosa che leggerete sicuramente nel titolo ho deciso di fare oggi il video allora di cosa parliamo oggi oggi parliamo del mio amore incondizionato verso periscope molti di voi periscope la conosceranno soprattutto gli youtuber molto alti conosceranno periscope perché la useranno per parlare diciamo con i loro follower io adesso non parlo con i miei fallover perché ho pochi fallover però diciamo che ieri ho fatto vabbè apriamo parentesi cos'è periscope periscope è un'applicazione sia per ios sia per android che permette di fare delle live proprio così terra terra faccia faccia occhi occhi naso naso bocca bocca capelli capelli è un app che permette di fare delle live proprio al minuto tu schiacci trasmetti ti sei trasmesso online c'è online sei live proprio in quel momento non è come registrare un video lo carichi dieci ore dopo questo è proprio live tu sei live la gente ti guarda live cosa puoi fare in questa periscope puoi parlare di qualsiasi cosa è come fare un video su youtube solo che invece che fare un minuto che dura 8 minuti può farla di quanto vuoi anche di due ore tipo la mia durata ieri due ore 40 minuti quella di ieri sera e puoi parlare di qualsiasi cosa praticamente poi anche puoi scrivere nel titolo di periscope puoi scrivere quello che vuoi riguardo a quello che devi parlare tipo io avevo scritto nella prima mia live avevo scritto the walking dead perché stavo guardando the walking dead è molto bella ieri sera ho fatto una ne ho fatte due ieri a dir la verità una l'ho fatta di pomeriggio con the walking dead mentre guardavo la prima puntata della sesta stagione perché mi sono fatto cinque stagioni in un mese quindi sì ho tanto tempo da perdere non è colpa mia ragazzi sono disoccupato e ho fatto la ho voluto inaugurare diciamo la sesta stagione su periscope con l'unica presente era alessandra la mia amica quindi ciao ale poi ho fatto la un'altra live l'ho fatta di sera mi sembra verso le 11 e mezza l'ho finita verso le due un quarto di sera di notte le due un quarto del mattino l'ho cominciata alle 11 e mezza di sera ho avuto qualche persona ho avuto un bel po di persone tipo 5 6 che per me sono tantissime perché perché ho notato che periscope cioè molta gente entra ma molta se ne va ma nell'arco di pochi secondi quindi può capitare che tu entra una persona alla salute dopo tre secondi sta persona se ne va ma non fa niente ho avuto comunque persone che sono rimaste persone con cui ho fatto due chiacchiericce e le ringrazio ciao e mi sono innamorato veramente di quest'app oggi infatti farò un'altra live perché non posso più farne meno farò questo video editerò il video lo caricherò su youtube mentre carica su youtube farò un'altra live sì perché mi piace veramente tanto è molto bella poi ci sono tutti i tipi di utenti io per esempio ho già avuto un rompicoglioni già nella mia seconda live ho già avuto un rompicoglioni qualcosa come lanterna qualcosa l'ho bloccato niente ma l'ho bloccato solo perché ha detto che è la serie tv the big c è una serie per coglioni solo per quello perché the big c è tutto fuorché una serie tv per coglioni quindi lì mi ha girato il cazzo e ho detto no tu te ne devi andare come osi dire che the big c è una serie per coglioni ma stai scherzando cioè te ne puoi anche andare quindi l'ho bloccato e ora siamo tutti contenti a dire la verità l'avevo scaricato periscope anche l'anno scorso ma avevo fatto anche due live ma non me l'aveva cagata nessuno sostanzialmente avevo deciso di cancellare l'app anche se comunque c'erano dentro le live ieri siccome questo canale sta cominciando ad avere produttività piano piano ma sta cominciando ad avere produttività ho detto rimetto periscope a discapito del poco spazio che ho sul telefono ma chi se ne frega mi rimetto periscope faccio nuove live e nelle nuove live mi promuovo promuovo il mio canale infatti ho avuto qualcosa come tra 4 iscritti da ieri perché mi sono promosso mentre facevo la live di periscope io dico ciao ai nuovi iscritti soprattutto uno di nome simone che aveva il pigio ma me l'ho pardato se mi stai ascoltando fai un cenno saluta visto che siamo qua volevo comunque farvi i miei social perché non sono uno che scrive i miei social sulle informazioni mi dispiace non mi piace mi piace e basta sostanzialmente anche perché comunque i miei social sono nella home del mio profilo sono dove c'è scritto la copertina Andy Drew sono nell'angolino a destra tutti quanti facebook twitter instagram e google plus ora comunque vi lascio vi lascerò qua instagram twitter facebook no non è che serve tanto instagram twitter vabbè facebook periscope chi manca sembra un vigile di qua a destra passa a destra a sinistra bè un incidente quindi vi saluto qua mi raccomando continuate a iscrivervi guardate i miei video questo qua era un video più per informazione non tanto per chiacchiere o cose del genere e seguitemi anche su periscope ciao 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 Grazie a tutti.